Tre giorni di spese folli, tre giorni di parcheggi gratuiti a Termoli. Buone notizie per chi si prepara al Black Friday, il periodo di sconti e promozioni tutto americano ma che da qualche anno è sbarcato anche in Italia. L'amministrazione Roberti per favorire gli acquisti e andare incontro ai commercianti ha deciso di eliminare la riscossione del pagamento delle strisce blu nelle giornate del 28, del 29 e del 30 novembre. Un'iniziativa chiamata Black Friday Parking che per la prima volta viene sperimentata a Termoli e che è stata concordata con i commercianti con i quali è stato aperto un dialogo che sarà costante e che negli anni precedenti non c'era mai stato come spiegato dall'assessore al turismo e alla cultura Michele Barile. Abbiamo intrapreso questo percorso comune, abbiamo iniziato già circa un mese fa con i primi incontri, con i primi appuntamenti che sono stati assolutamente profigui e questa è una cosa che ci gratifica particolarmente. Naturalmente è un inizio, da qui inizieremo a calendarizzare tutta una serie di appuntamenti e condividere un po' tutto quello che è il lavoro che l'amministrazione svolge per Termoli e quindi sperando in questi appuntamenti di riuscire a recepire anche delle iniziative, delle propositive da parte dei commercianti. L'iniziativa è stata illustrata anche dall'assessore alle attività produttive al bilancio Giuseppe Mottola che ha descritto il lavoro di sinergia portato avanti con il settore cultura e turismo e di aver trovato al suo insediamento risorse esigue da poter impiegare. Nonostante questo ha spiegato, in comune si lavora per programmare per tempo iniziative e risorse e si pensa a un calendario di eventi per il 2020 da concordare con gli esercenti.